Bella a tutti ragazzi, Corgasmic, sono qui a portarvi un nuovo squad builder e vi porto una nuova ibrida BSG davvero davvero baggatissima, soprattutto sueti di brutto, come vedrete dai giocatori comunque nella copertina, nella miniatura partiamo subito belli carichi, ho usato il 4-1-2-1-2 che secondo me è il modulo per antonomasia il modulo più sueti che ci possa essere e quindi partiamo subito dal portiere, a squadra non costa tanto e ci sono un paio di giocatori argento, un paio di giocatori bronzo e il resto sono giocatori oro il portiere ha utilizzato Johart, non è la versione upgrade perché io mi trovo bene con questa e sinceramente non avevo molta voglia di utilizzare, di comprare la versione if, buon not upgrade è un portiere veramente incredibile perché fa dei salvataggi miracolosi grazie ai suoi valori di tuffo e riflesso molto molto alti comunque nel resto delle statistiche è molto forte, poi è alto 1,96 e ha un'ottima velocità poi terzino destro utilizzato se non ricordo male, ho utilizzato Debussy, eccolo qui che anche esso è un buon giocatore, è un buon terzino, non è velocissimo però nel resto delle statistiche va molto molto bene quindi ci sta, ve lo consiglio, in alternativa potete usare Sagna Lasagna però non mi fa impazzire poi terzino di, eh sì buonanotte, difensore centrale di destra, Company, davvero una bestia questo giocatore è veramente formidabile, acquistato molto tempo fa quando non c'erano i price range quindi adesso non so sinceramente a quanto sta però vi consiglio di prenderlo perché è veramente fortissimo un baluardo difensivo incredibile e non chiedetemi come abbia fatto a fare quell'assist perché non lo so neanch'io poi, difensore centrale invece di sinistra ha utilizzato uno dei più utilizzati nella BPL eccolo qui, cioè Onua, che sì, a me non è che mi faccia impazzire proprio così tanto però sì, vabbè, è molto veloce quindi fa tanti recuperi però difensivamente non è il massimo, ecco, comunque molto forte, molto alto, buon valore fisico eccetera eccetera poi, terzino di sinistra, Bronzone, Bronzone pauroso, cioè non so pauroso per modo di dire che è Bakayogo del Leicester, sì, è un buon difensore, un buon terzino perché è molto veloce è un discreto passaggio, discreto valore di difesa, soprattutto un buon buon fisico poi anche 3 stelle pede debole quindi ci sta, costa poco, sì, comunque è davvero un buon giocatore poi andiamo da uno dei giocatori più forti di questa squadra, cioè che mi ha più impressionato più che altro che è un argento, CDC, e cioè Lemoine, non mi aspettavo che questo giocatore fosse così forte mi ha fatto, vabbè, un solo assist, 4 partite, ma per un CDC ci sta ma lui è in grado di fare il reparto da solo, perché? perché è molto forte in difesa, è molto forte in fisico, ha un ottimo passaggio, cosa un po' rara nei CDC di queste caratteristiche e ha un worker da CDC puro quindi io penso che sia anche esso un baluardo difensivo, un difensore centrale aggiunto che riesce a rubare un sacco e conquistare un sacco di palloni agli avversari cosa veramente molto utile per poi, grazie anche al suo valore di passaggio molto buono smistare per gli altri giocatori, soprattutto gli esterni poi, come esterno di destra non è argento, in realtà è un bronzo comunque potete usare Plea, potete usare qualsiasi francese esterno destro della Ligance ci sono, Plea l'ho usato perché ce l'avevo un E-Club comunque mi trovo sempre molto bene perché ha una discreta velocità un ottimo dribbling per un bronzo, ma soprattutto un tiro veramente formidabile anche dalla distanza fa dei bei tiri e mi ha fatto, non so se uno o due gol in 4 partite comunque davvero un ottimo giocatore poi, esterno di sinistra, argento, è un giocatore che non avevo ancora provato mio malgrado, ma che fortunatamente l'ho fatto, è davvero ottimo cioè Max Allen-Gradel, davvero un giocatore che vi consiglio perché ha tutto, un ala o esterno veramente completissimo con una velocità pazzesca, ottima agilità veramente un ottimo dribbling con 4 stelle abilità e davvero un ottimo tiro con 70 o più sono sempre da 70 o più i tiri degli argento sono sempre ottimi quindi vi consiglio di provarlo peccato che è normale normale di Warcraft comunque come esterno va molto bene forse un po' meno come ala se avesse alto sarebbe meglio ovviamente poi, CoC un giocatore veramente incredibile che conosciamo tutti cioè Pogba Pogba 84 quindi la versione upgrade l'ho utilizzato da CoC quindi trequartista e rende davvero da dio quattro partite, tre gol e tre assist sono dati veramente paurosi per un trequartista tra l'altro che non dovrebbe fare così tanti gol comunque fa tanti assist l'unica sua pack è che non ha una velocità altissima ma compensa il suo fisico veramente prorompente riesce praticamente a tenere il pallone in qualsiasi situazione poi c'ha una sborda dalla distanza veramente spettacolare quindi questo è un giocatore completissimo che vi fa un sacco di gol e ne fa fare tanti anche agli attaccanti andiamo nel reparto più offensivo dove troviamo a destra un giocatore che ancora non avevo utilizzato cioè Tevez e ragazzi meno male che l'ho provato perché questo è un giocatore veramente formidabile non so quanto sia forte in attacco a 1 ma provandolo in attacco a 2 grazie anche al suo passaggio riesce a fare un casino di gol grazie al suo tiro micidiale anche dalla distanza ma soprattutto grazie al suo passaggio tanti assist poi ha un dribbling pazzesco un'ottima velocità un fisico bestiale l'unica pecca anzi forse le due pecche sono il work hit di difesa alto quindi delle volte ritorna indietro quindi non lo trovate mai magari sulla linea del difensore e soprattutto le stelle abilità perché questo giocatore deve assolutamente avere 4 stelle abilità non so perché non ce le abbia quindi questo è un contro pazzesco però il giocatore è veramente formidabile fortissimo e il suo compagno tra l'altro costa 4000 credit è una cosa scandalosa e il suo compagno di reparto per concludere in suetezza stiamo parlando di eccolo qui Dumbia eh ragazzi non ci sono parole per descrivere Dumbia 6 gol in 4 partite parlano da sole questi dati mi... cioè non sto neanche a commentarvi ai giocatori tanto lo conoscete tutti perché è veramente una bestia clamorosa questa squadra ragazzi è sueti di brutto vince sempre fate almeno 3-4 gol a partita quindi provate questa squadra non costa tanto è divertente e fa acquittare ovviamente tanti avversari però comunque questi sono i rischi nell'utilizzare questo tipo di squadre comunque raga come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace se vi è piaciuta questa squadra ma soprattutto raga scrivetemi un commento consigliandomi anzi dicendomi quali squadre vorreste preferire cioè vorreste vedere nei prossimi video perché ultimamente sono davvero in difficoltà ne ho fatto un milione di squadre dall'inizio di FIFA quindi non ho più idee e vi chiedo aiuto appunto nei commenti fatemi sapere che squadre volete in futuro iscritti al mio canale pagina Facebook Twitter Instagram tutti i link come sempre li trovate sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video adesso vi lascio il clip bella Rai ciao Grazie per la visione